Ma non c'è il casino, cos'è sto casino? Ma no, ti va bene, ma è un cazzo, non ti va bene, è un cazzo Va bene, 3, 2, 1, via Un pollo! Siamo qui su Lost in Sheet, con io, in compagnia di Xpumpads Con Charmander Salute a Charmander Chi è Charmander? Tua sorella Questo round non è reale qui, perciò Ma sentivo tipo Vabbè, con Xruvoz Salute a Ruvo 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 non c'è È andato via Si succhia la micchia Vabbè, che se ne c'era di Ruvo Chi arrangia lui se non vuole salutare i suoi 53 iscritti ragazzi Ah, è spento il suo audio Ah, ma Spir Si è spento il suo audio Cioè, non era in chiamata Ma non è in chiamata Si è in chiamata Si è in chiamata WTF Ah, ok Gigi, ci sei? Eh? Ma perché non c'è? Noi abbiamo fatto l'intro L'intro No, mi ha buttato fuori E non sentivo qui niente Infatti dopo l'intro Non sentivo qui niente Non basta Gigi, grazie a me Perché sarebbe stato così Tutta la puntata Vabbè Gigi saluta Saluta i 53 iscritti Eh, ma che pippa Scusate l'interruzione Ma vabbè Allora 53 iscritti ragazzi 52 Non erano 52 Erano 52 Sono un po' Sono un po' Sono un po' Eeeh Vi è piaciuto il video Nel Nether con Belen Vero? Sì No In realtà Perché non ti metti a volare Vai per 50 km da quella parte Ah No Non si perde No, non si perde Arriverà su un'isola deserta Sì Sì In effetti Arriverò su un'isola deserta Perché questo In questo mondo Sto facendo il pisci Ah, capito Tutto si muove Su Wow 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 Che parla in questo modo Blasfema Tua bomba Lulul Pampa troppo divertente Si capisce che è un 2 Guarda dove? Sì dai Ecco Ma dove sei? Ma dove sei? Ecco 52 iscritti raga 52 Oh Lasciamo questo numero E lo aggiorniamo di volta in volta Sì Facciamo una casettina magari con dentro le robe Con il vetro No Aspesto Devo fare una roba Mettiamo noi da un'altra parte Mettiamolo in pietra rossa che è bello Dopo Aspete Devo fare una roba Devo fare una roba Che mi sono sempre detto Arthur fai quella roba Quando hai 52 iscritti Proprio ma quando ce ne hai proprio 52 Non quando ne hai di più o di meno Ah io ho fatto la roba Sì ma dopo 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 vabbè 52 iscritti No hai tolto la roba Facciamola da un'altra parte Venite qua Venite qua Questo non mi piace Perchè Aspè 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 Perchè non mi ricordo Ecco Ecco Un altro tavolo Puffi Guarda il tavolo No Gigi sei troppo pro Bene Possiamo distruggere le robe di Puffi No 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 Puffi no Nella cazzata Va bene Ok basta Allora volevo costruire tipo un totem oggi Un tempio Dove metteremo gli iscritti Che ne pensate? No Ecco quello che dicevo io No andate Se voglio vedere il nuovo Qua Ah sì È vero E allora Mentre Pampa costruisce Il totem E il coso Che deve essere abbastanza alta Pampa Sì Pampa Dove essere abbastanza alta Così ci entra la scritta Io e Gigi Andiamo Sapete dove? Nell'end Sì ragazzi Avete capito bene Nell'end Oddio sono già nel l'end Sono nel l'end Sì ragazzi No Sì ragazzi Sì ragazzi Sì ragazzi Case in fondo a convincere a lavorarlo Lei ispr ett personager bisogna prender tutta questa pietra S-Levo Company Freize ma Casi la velocità che mi sono , Whatever Ah, Methисpare la concepzione assigned La velocità ma pro la voce e non mi hanno pensato bisognito Ma cad migration cosa destaca come credo la velocità la notita che dentro la voce è non come Molto La��ità Dirello La voce Wie La voce La voce è ancora La voce La voce La voce Innanzitola Non era uno che dava? Ma se non mi fai io che non l'ho invitato il video ma se fai E allora se non faccio mai l'idea L'idea, no, X-BOOF, FF, FF... No, per favore dei link tra pista della X-BOOF Dibili? Al während del tempo, al während del tempo, al während del tempo Oi, al während del tempo, al während del tempo Non lo so, non lo so! Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so Ma se ne va, non lo so... Ma se ne va, non lo so, non lo so Ma se ne va, non lo so, non lo so Sì, stiamo spiegando lì andamana. ma non c'è la mia e io sta morendo, io non ho fico, mi cerca prenderlo dalla cima in alto nooo, ti stai male, mi pare di una piccola bravo ma ancora ma non avevo la mia il mio piccone che è l'unica cosa importante il mio piccone è sputti ma che si parla del belenno, oh dio, oh dio Toi i capi! Oh! Tu ti fanno con un arto? No, ancora questo non ha io, no. Non, non ha visto proprio. Orto che dove in increased the nose... Ah, non ha visto le cose le cose, ma io non ha visto l'arto. Se c'è lui. Ok, di più! Ah, ora mi sono tornato! Ma so che qui, oh! Tu vieno tanto il figlio, andando. Pura io, puoi ciò! Oh, guarda. Ma hai visto orte! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie.